Sono messi alcuni cavalli distorsi intanto, la macchina che accende la sbaglia anche a segli oggetti, ed è Mercuri Rocchio difende la posizione, vede il filo di impegno, vede il filo verso Mercuri Rocchio tiene strada in 300 metri, e quindi il nuovo leader dopo aver superato Mercuri ha fatto vado la posizione alla corda, intanto sono i primi 400 metri di gara, cavalli al passoso davanti alle tribune con in vantaggio Miriam e il filo in seconda posizione Mercuri Rocchio, all'esterno avanza ora Olanda Igreppi, è seguito da Inducette e Nadia Prio, mentre lungo la corda va Monica HP, fa ricorso invece Arras e anche Legginton D, cavalli che vanno a completare l'800, il portale tranquillo in 16 per Miriam e il filo che affronta ora la retta delle studie, lì è sempre taronata da Mercuri Rocchio, percorso esterno agisce invece l'Olanda Igreppi con in schiena Inducette, cavalli a... pochi più di 500 della conclusione, nelle posizioni di retroguardia a Legginton D, tanto viene di un 30 ruota Inducette a 400 dalla conclusione, allunga però Miriam e il filo con all'esterno Olanda Igreppi che attacca, Inducette in terza ruota, insiste nella conclusione insieme a Olanda Igreppi che sta attaccando e passando in vantaggio, resta d'arrivo, Olanda Igreppi è passato in vantaggio ma c'è Inducette che a sua volta riesce a passare nel finale, Inducette, le gattute conclusive, controlla la situazione e vince nettamente il secondo posto per Mercuri Rocca al terzo, finisce Nadia Prio.